C'era una volta, come nelle migliori favole anche questa inizia con il solito incipit di quelle che sono le fiabe del passato e questa volta vogliamo raccontare una Saronno che tutto sommato è già scomparsa. C'era una volta una Saronno agricola e contadina che non c'è più. Questo è il senso di questo nuovo servizio di Piero da Saronno che illustra la rassegna che è aperta qui alla Casa Morandi, biblioteca civica nella Sala Nevera, che è un ulteriore sforzo di quelle iniziative che già nel passato, forse gli spettatori saronnesi ricordano. Nel 2008 si parlò delle abitazioni a Saronno, successivamente si illustrò il discorso delle scuole, poi delle industrie e questo sembrava l'ultimo capitolo che mancasse proprio per completare questo panorama sul passato di Saronno. Una Saronno agricola, contadina che ci svela particolari della nostra città che tutto sommato sono oramai scomparsi. Sicuramente le immagini saranno a vantaggio di quei giovani che non hanno mai visto questi stranissimi oggetti che l'obiettivo sta riprendendo. Attrezzi agricoli che sono il frutto dell'impegno del lavoro dei contadini nella campagna saronnese. Veramente un recupero di archeologia del passato che non appartiene più al nostro mondo di oggi e in questo senso vale veramente la pena percorrere questo itinerario qui alla rassegna della mostra di Saronno. Cominciamo allora la nostra visita virtuale qui alla mostra del c'era una volta Saronno agricoltura e campagna da questa suggestiva ricostruzione di un ambiente che rappresenta quello che doveva essere una povera stanza delle cascine di un tempo dove i contadini passavano le giornate. Vediamo diversi oggetti che arredavano questi interni dalla cassa panca al mastello per il bucato alla cucina che sicuramente qualche nonna deve aver ancora adoperato nel passato. Oggetti molto modesti di una vita quotidiana dove l'agricoltura era veramente il lavoro principale di queste famiglie contadine e non bisogna dimenticare che nel suo passato Saronno era veramente un borgo agricolo che viveva dell'economia rurale nella coltivazione dei campi attorno appunto a quello che era il centro abitato di Saronno. Ecco un altro come dire stand davvero suggestivo non possiamo parlare di una ricostruzione dell'interno ma di una vera e propria mostra di oggetti che appartengono alla cultura contadina. Vediamo setacci, i crivelli come venivano chiamati, falcetti e altri oggetti. E' anche interessante perché appartengono veramente a un passato oramai lontano i giochi per gli animali. Vedo un collare per cavallo e anche da questa parte vedo un basto per i buoi che venivano aggiogati al carro appunto per il traino dei carri agricoli. Veramente oggetti e particolari di un mondo di una Saronno che oramai è completamente scomparsa ma proprio per questo credo che questa rassegna abbia un grande valore documentario e storico su questo passato saronnese. Credo abbastanza interessante notare l'esposizione di queste due carte militari che in particolare e viste in sequenza ci fanno capire come lentamente il centro storico di Saronno si è ingrandito da un punto di vista urbanistico. L'obiettivo in questo momento sta riprendendo un'antichissima carta militare del 1888 dove si vede il piccolo centro urbano del borgo di Saronno che chiaramente è ancora sperso nella grande campagna che era veramente il territorio dove il contadino viveva il suo lavoro e la sua giornata faticando appunto nel lavoro dei campi e quindi la sequenza che successivamente mostreremo con un'altra carta militare ci fa capire come il centro urbano progressivamente si stava allargando, l'urbanistica stava rubando territorio alla campagna e la città diventava sempre più vasta. Come dicevo nella seconda mappa militare che rappresenta il territorio saronnese vediamo un centro urbano che si è allargato. Noto che questa cartina è del 1936 quindi un'epoca successiva. Tra l'altro un particolare che forse bisognerebbe indicare potendo leggere dal vivo questa carta militare è già presente l'autostrada Milano-Laghi che ricordiamo è la prima autostrada in assoluto nella rete stradale italiana costruita nel 1922. Non esistevano gli svincoli di uscita perché quella era la struttura appunto dell'autostrada ma questa lettura delle mappe ci fa capire qual è stato lo sviluppo urbanistico del centro che in qualche modo per una diversa attività economica più artigianale successivamente anche industriale ha dato una grande ampliamento a quello che era la città di Saronno. Una vera rarità cartografica nella rassegna della Saronno del passato tra agricoltura e appunto e campagna. Questa preziosissima e non mi sembra esagerato usare questo aggettivo superlativo mappa del 1798 che rappresenta il vecchio borgo di Saronno con tutti gli appezzamenti che appartenevano alle proprietà agrarie della casa dei marchesi stampa di Soncino. Come potrà vedere lo spettatore è indicato un centro di Saronno molto approssimativo ma veramente molto ridotto. Basta notare che il corso del torrente Lura non lambiva neanche il centro abitato ma era in periferia rispetto al borgo di Saronno ed essendo una mappa che aveva una funzione catastale indicava i diversi appezzamenti sparsi nella campagna saronnese che appartenevano alla casa dei marchesi stampa di Soncino. Forse qualche attento studioso della storia saronnese sa che gli stampa Soncino sono state una famiglia di possidenti terrieri che appunto esercitavano il loro pedrominio, la loro presenza nella città fra le famiglie dei maggiorenti del borgo di Saronno allora. Mi sembra significativo indicare questa cartografia che ci fa veramente capire come l'agricoltura è stata la forza economica di questo borgo prima delle sue trasformazioni appunto artigianali industriali successive a questo momento. Un documento di grande valore storico che viene riprodotto dall'archivio comunale appunto della città di Saronno qui nella rassegna è questo repertorio dei contratti agrari. Il contratto agrario era il documento che siglava il patto tra proprietario terriero e contadino appunto per stabilire quali erano i compiti e le incombenze che entrambe le parti dovevano realizzare nell'ambito di quello che era il contratto agrario stesso. Forse vale la pena ricordare che nella scansione dell'anno agricolo si partiva sempre dall'11 settembre che era il giorno di San Martino quando si riteneva che l'annata agraria precedente fosse oramai conclusa e nel momento delle arature delle semine per quella successiva si dava inizio a un nuovo ciclo appunto delle coltivazioni. Questi documenti preziosissimi che sono veramente cimegli storici qui ci rappresentano quelle che sono le clausole dei contratti e dei patti agrari di un tempo e vi posso dire avendo partecipato al gruppo di lavoro che ha elaborato questa esposizione ci aveva veramente colpiti nell'elenco dei vari tipi di lavori che si svolgevano quello del pallottiere. Ci siamo interrogati a lungo su chi fosse questa persona o questo artigiano e poi abbiamo trovato la risposta. Il pallottiere era colui che da artigiano quindi slegato dal lavoro contadino fabbricava le palle di piombo che servivano per caricare le armi e quindi una funzione veramente completamente fuori dal nostro contesto perché ci sono certi lavori che veramente si sono persi proprio perché attività che non hanno più un loro significato mentre era evidente la preeminenza di quello che era il ruolo del massaro, del contadino, del costode delle mandrie quindi noi diremmo il bovaro proprio con un termine moderno che sono tutte le varie funzioni che nel mondo rurale venivano appunto svolte da questi personaggi. Non possiamo dimenticare che nella storia rurale e agricola di Saronno sono presenti da tempo due frazioni che oramai praticamente sono quasi inglobate nel centro urbano. Prima Cascina Ferrara e successivamente mostreremo anche la frazione di Cascina Colombara. Forse qualche studioso sa che la Cascina Ferrara fu per molto tempo proprietà della famiglia Reina e successivamente appunto della famiglia Stampa Soncino che lasciò per questioni ereditarie il suo patrimonio fondiario invece poi alla famiglia degli antici. Cascina Ferrara come qualche volta si dice ha rivendicato nel passato la sua autonomia quando fu comune autonomo rispetto a Saronno ma nuove compagine amministrative del novecento hanno inglobato sia questa frazione Cascina Ferrara e successivamente anche Colombara in quello che è il territorio comunale della città di Saronno oggi. Come dicevo poco anzi ecco due pannelli che illustrano quello che era il piccolo centro rurale di Cascina Colombara l'altra frazione che oggi è inglobata nella città. Valla pena forse ricordare guardando questi due pannelli che tratteggiano la storia rurale di Cascina Colombara qual è stato il metodo di lavoro dei ragazzi che hanno elaborato questi disegni. Come per le rassegne del passato anche in questo caso sono esposti i disegni originali delle piante delle diverse cascine che provengono dall'archivio comunale che gli studenti del collegio arcivescovile corso per geometri classe quarta nell'anno scolastico passato hanno riprodotto e rielaborato con la tecnologia dell'autocad quindi come dire il prima e dopo delle edifici rurali dalle vecchie mappe dell'archivio a una nuova mappa attraverso gli strumenti moderni. Mi sembra significativo indicare l'obiettivo di Piero da Saronno queste tre mappe che sono il paziente lavoro di una persona che ha dedicato parte della sua vita alla ricostruzione di una contrada storica del centro saronnese la contrada di San Cristoforo forse qualcuno sa Saronno che il signor Antonio Turconi è stato l'appassionato ricostruttore di questo quartiere cittadino dove erano presenti numerose corte rurali perché anche il centro era fatto da abitazioni dove i contadini appunto dopo il lavoro nei campi ritornavano alle loro dimore. Il signor Turconi ha sapientemente rielaborato con una parte grafica in queste tre sequenze che sono state riprese e che attualmente l'obiettivo vi mostra quello che era proprio il vecchio cuore della Saronno di un tempo la contrada di San Cristoforo forse vale la pena ricordare che proprio in questo quartiere nel 1827 scoppiò il famoso incendio che distrusse una parte di questa zona della città e che venne poi ricostruita con l'intervento anche delle forze dei pompieri di Milano che diedero una grande aiuto per appunto domare l'incendio e questo fatto legato alla riconoscenza saronnese dato origine alla famosa piazza della riconoscenza dove da tempo campeggia come si anche nella mappia del signor Turconi il famoso monumento della cosiddetta ciucchina questo emblema cittadino che è diventato anche un premio che la città dà ai benemeriti che in realtà come ben sappiamo rappresenta l'immagine di Giuditta Pasta la grande saronnese cantante lirica del passato. Vale la pena ricordare un altro aspetto della vita contadina di Saronno del passato perché possiamo dire che quella che attualmente la piazza unità d'italia questa forma allungata in realtà sta per molto tempo fino agli anni 60 esattamente dai primi anni del novecento il foro boario di Saronno dove settimanalmente si svolgeva il mercato appunto del bestiame. La cosa interessante che sarà possibile evidenziare con il disegno d'archivio è la particolare eleganza di questa tettoia che custodiva il foro boario veramente un disegno di grande pregio che pur per una funzione così secondaria appunto il mercato delle bestie fu disegnato e costruito con una fattezza che richiamo in modo evidentissimo lo stile liberty del primo novecento. In questa rassegna sul passato rurale contadino di Saronno mi pare indicativo e molto importante segnalare una istituzione che ancora oggi esiste nella nostra città parlo della cooperativa agricola culturale di Cassina Ferrara in precedenza si è passato si è parlato della frazione di Cassina Ferrara ma qui bisogna fare riferimento a un'istituzione che è proprio nata in questa piccola frazione della città di Saronno. 1909 con una grande intuito di carattere così sociale anche economico i capi famiglia di Cassina Ferrara costituirono una società cooperativa fra i diversi coltivatori del borgo che ancora oggi come dire esiste come istituzione anche se ha trasformato quella che è la sua funzione sociale perché appunto nel corso degli anni si è aggiunta la funzione culturale che ancora oggi caratterizza questo sodalizio di Cassina Ferrara però è significativo che questa istituzione che oramai vanta più di cento anni dalla sua fondazione ancora sia presente sul territorio comunale ricordando questa matrice legata profondamente al mondo contadino. Mi sembra significativo concludere questa nostra visita virtuale alla mostra c'era una volta Saronno agricoltura e campagna qui alla casa nevera ricordo che la mostra sarà aperta fino alla domenica 3 novembre quindi una ottima occasione per visitarla. Ecco parlare di una figura storica nel mondo contadino e rurale di un tempo il mediatore io non sono lombardo forse pronuncio male ma si diceva con termine dialettale il marossè l'uomo che metteva d'accordo le parti tra chi vendeva e comprava con tutto quel cerimoniale di gesti di procedure che appartenero proprio a questa cultura del passato la cultura contadina figura storica quella del mediatore che esercitava la sua funzione proprio in particolare in quello che abbiamo indicato anche in precedenza essere il foro boario di Saronno cioè il mercato del bestiame. Possiamo allora dire concludendo questa nostra rassegna davvero c'era una volta agricoltura e campagna a Saronno cose che oramai non ci sono più